Dino Bonadies, 3-0 che non lascia replica? Una bella partita, ci serviva questa vista E Johnny merito anche di Johnny Dazaro Zero team in porta? Zero titoli Abbiamo fatto una buona partita oggi, sotto tutti i punti di vista Siamo stracontenti Stiamo crescendo partita dopo partita Anche i giovani hanno fatto una gran partita oggi Siamo contenti Da ex Johnny? Come hai visto la tua ex squadra? Non benissimo Anche loro sono tanto giovani C'è tempo per recuperare Mi auguro che facciano il meglio Siamo solo all'inizio 3 punti, oggi vi collocano Avete agganciato Little in classifica? Non so i risultati Io non la guardo mai la classifica L'importante era vincere Dovevamo prendere un po' di ritmo Lo stiamo prendendo Speriamo di continuare così Ciao, dobbiamo andare a fare la doccia Ciao